L'Europa ogni anno perde 3 milioni di persone in età lavorativa, che non sono sostituite da altre. L'Italia 300.000. Questo già ci dice che questi numeri sono molto più alti degli arrivi in Europa e degli arrivi in Italia. Ma gli arrivi in Europa e gli arrivi in Italia non devono continuare ad essere come sono adesso, cioè non gestiti. Arrivi irregolari perché impediamo alle persone di arrivare regolarmente. Bisognerebbe riaprire dei flussi irregolari e gestirli, decidere come, da dove, quanto spendere per integrare.